C'è una domanda che sta facendo il giro del web dopo l'uscita della docu-serie dedicata alla regina Cleopatra. Effettivamente la regina Cleopatra era di pelle nera? Scopriamolo insieme. Per prima cosa la regista della serie TV Tina Garavi ha difeso, ha spadatratta la scelta di Adele James per interpretare la regina Cleopatra nella serie TV che è uscita il 10 maggio su Netflix. Soprattutto quando in Egitto si è scatenata una sommossa contro la serie TV in quanto gli egiziani effettivamente non si sentono a tutti gli effetti africani e la rappresentazione della regina Cleopatra di pelle nera lo rende di fatto tale. Quindi abbiamo tutti nell'immaginario collettivo la Cleopatra Liz Taylor che si discosta moltissimo da quanto vediamo nella serie TV. Quando da bambina Tina Garavi, la regista della serie TV, studiava la storia di Cleopatra e quella del Mediterraneo leggendo che la sovrana egizia diventò un personaggio che travalicava i confini del mondo ricordava che l'immagine non era giusta perché si domandava se la sua pelle era effettivamente così bianca. La famosa regina egizia era di antiche origini macedoni, del lignaggio tolemaico che ad un certo punto negò il suo destino a una delle dinastie più antiche dell'Asia occidentale che aveva vissuto in Egitto per 300 anni. Secondo la regista, Cleopatra era lontana 300 anni dalle sue antiche dinastie tolemaiche, quindi poteva essere egiziana come lo sono Jennifer Aniston o molte altre attrici di questo secolo. La regista ha recentemente dichiarato che far interpretare da Adele James, quindi da un'attrice nera, la regina Cleopatra è stata anche un atto politico in quanto recentemente Monica Bellucci, poi Angelina Jolie e Gal Gadot erano in corsa per interpretare la regina più potente d'Egitto e quindi proprio la regista ha voluto sottolineare questa scelta. Ma effettivamente Cleopatra era nera? Storicamente parlando, la scelta di Adele James potrebbe essere errata, va bene, ma anche quella di Liz Taylor, come soprattutto è stato affermato da recenti ricerche, non era proprio giusta. Con varie ricerche e diversi consulti sembra si sia trovato un accordo totale sull'effettivo colore della pelle della regina Cleopatra e sul suo aspetto, che effettivamente si discosta parecchio anche dalla Liz Taylor che tutti amiamo. Quindi, come viene descritto da questo saggio, è una via di mezzo tra la Cleopatra di Liz Taylor e quella di Adele James. Gli occhi pieni di luce e grandi, allungati, sorpresi. Gli zigomi solidi, le labbra carnose e il mento piccolo è un'acconciatura ordinata, fatta di ciocche arricciate e separate tra di loro. È il viso di Cleopatra, la regina d'Egitto, così come l'hanno mostrata in un'immagine tridimensionale gli studiosi dell'Università di Cambridge. L'equipe ha investito un anno di lavoro per trovare questo volto della regina. Lo studio si è basato su oggetti conservati dall'antichità, dipinti, frammenti, anelli, uno in particolare, ma anche sulle descrizioni, sull'analisi della storia della sua famiglia. Un collage di immagini e parole che gli esperti hanno tentato di ricomporre per ritrovare gli occhi della sorana più famosa dell'antichità. Gli occhi, l'ovale e i suoi capelli non lisci, sulle spalle come lo stereotipo della leggenda ha insegnato a pensarli, ma molto mossi e ordinati, e le labbra non sottili, come si potrebbe immaginare, ma piene. Il viso di Cleopatra è quello di una giovane dalla pelle d'ambra e dai lineamenti più europei che africani. Quindi tratti che sembrano uno stupefacente misto di etnie, spiegano gli studiosi. Quindi possiamo tranquillamente dire che Cleopatra no, non aveva la pelle nera, ma che effettivamente non era neanche chiara, come quella di Leeds Taylor, una pelle più olivastra, come le donne del sud. Quindi più o meno c'è un incrocio di etnie nella storia di Cleopatra, una delle regine più potenti d'Egitto, tralasciando che poi la serie faccia diversamente schifo, se così si può dire, tralasciando il personaggio di Adele James accusato di blackwashing della storia proprio dal popolo africano, egiziano, soprattutto. Quindi diciamo che non ha fatto questo grande successo come sperava la regista. Ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, e spero che questo video vi sia piaciuto e che magari ci continuiate a seguire su Ciaccazione. Grazie a tutti da Valerio Perrone. Vi ricordo che in descrizione qui sotto troverete tutte le indicazioni per seguirci sui nostri canali social Facebook, Instagram e YouTube. Grazie a tutti e buona giornata.